Benvenuti alla conferenza stampa pre-partita di Provercelli Giannerminio. Mister, torniamo da Vicenza, torniamo a giocare in casa. All'andata è stata una partita rocambolesca, due volte in svantaggio, poi il gol del definitivo 3-2 di Mustacchio. Ti aspetti una partita simile o una partita diversa in questo girone di ritorno? Ma spero in una partita simile, nel senso spero in una partita aperta. Allora comunque non è una squadra che si arrocca in difesa, prova a fare il loro gioco. Dobbiamo, in questi ultimi mesi, che magari siamo finiti un po' sotto processo, le prestazioni ci sono sempre state, ma ci andiamo a vedere i punti raccolti sono meno delle prestazioni che abbiamo fatto. e quindi in questo momento qua magari serve un po' più arrabbiati, un po' più nervosi, nervositi, nel cercare di dire no, stavolta oltre alla prestazione, con qualcosa in più porto a casa anche il risultato. Ho detto ai ragazzi, oggi, domani quando giocheremo, no, oggi no, oggi non ce n'è per nessuno. Ecco, dobbiamo andare facendo il nostro, provando, giocando sempre a calcio, però in certi momenti, come può essere un calcio piazzato, un calcio d'angolo, una rimessa laterale, lì voglio la massima concentrazione, che l'episodio non determini qualcosa di negativo per noi. Grazie mister.